Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione del TG Setting. In primo piano ancora l'omicidio Vassallo, a giorni rientrerà in Italia Bruno Umberto Damiani, arrestato in Colombia a Bogotà, ritenuto uno degli elementi chiave nell'indagine per cercare di scoprire gli autori del omicidio della sindaco pescatore. L'arresto di Bruno Umberto Damiani risale a più di qualche settimana fa, la pratica di estradizione dovrebbe essere già stata definita e il brasiliano potrebbe far rientro in Italia, dove è pronto per lui un posto al carcere di Forne. Entra una decina di giorni. Sarà allora che il sostituto procuratore dell'antimafia, Rosa Volpe, potrà interrogarlo e non solo in merito alle accuse di estorsione, tentata estorsione, per le quali è stato colpito da una prima ordinanza di custodia cautelare. Damiani dovrà anche rispondere alle domande degli investigatori in merito all'omicidio Vassallo. Gli hai presunti collegamenti tra lui e alcuni albergatori di Acciaroli e a quegli incontri anche con spacciatori napoletani avvenuti pochi giorni prima e fino anche poche ore prima dell'agguato al sindaco pescatore. Uno dei filoni seguiti dai carabinieri del Rosso di Salerno in merito all'omicidio di Pollica porterebbe proprio all'affare droga. E' proprio lavorando al caso Vassallo del resto che sono emerse responsabilità di Damiani per spaccio di sostanze stupefacenti. Atti che l'antimafia avrebbe poi trasmesso alla procura di Vallo per competenza territoriale. Per quell'inchiesta Damiani fu l'unico indagato per il quale fu disposta la carcerazione. Gli altri finirono tutti ai domiciliari. Un filone investigativo che è servito agli inquirenti anche per raccogliere elementi sul personaggio Damiani. Un tipo scrive nell'inchiesta di arresto alla procura che minacciava i propri clienti obbligandoli ad acquistare droga. Oppure come uno che non esitava ad aggredire ed intimidire altri spacciatori sul territorio. Una delle cose che Damiani dovrà certamente chiarire con gli inquirenti che indagano sull'omicidio Vassallo è il perché abbia deciso di lasciare l'Italia pochi giorni dopo l'attentato mortale. Soprattutto dal momento che, benché interrogato nell'immediatezza del fatto, non era iscritto nel registro degli indagati. Gli inquirenti in fondo una risposta se la sarebbero data. Damiani potrebbe conoscere il nome del killer del sindaco pescatore. Sicuramente Damiani dovrà dare risposte anche in merito alle accuse rivolte da un pentito salernitano, il quale ha accusato il brasiliano dell'omicidio spiegando di averne appreso i dettagli da suoi familiari. Dopo che un parente stretto del ragazzo se n'era vantato, negli ambienti criminali di Passene e Mariconda, affermando che a sparare era stato il brasiliano e che lo aveva fatto per questioni personali. Ovvero i continui interventi di Vassallo contro le attività di spaccio, sfociati pochi giorni prima del delitto, in un violento litigio con alcuni giovani della zona nel porto e anche i contrasti avuti con Gabriele Pisani. Anche lui arrestato nel blitz contro gli spacciatori e gestore di un negozio etnico sul corso principale di Acciaroli e socio in affari con Damiani, arrestato di ritorno da Praga anche se in un primo momento si era detto che fosse in Brasile con Bruno Umberto. Questa mattina ospite nei nostri studi, in rassegna stampa proprio il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, che ha raccolto l'eredità di Angelo Vassallo. Sentiamo come ha commentato l'arresto di Damiani. Sindaco, una buona notizia dove dopo tanto tempo si era persa anche un po' di speranza di sapere cosa effettivamente fosse successo quella sera del 5 settembre. Diciamo che la speranza si era un po' affievolita, soprattutto perché in questi casi il trascorrere del tempo certo non aiuta alla risoluzione del caso di Pollica. però a questo punto devo dire la speranza diventa ancora più forte perché dall'arresto di Damiani viene soprattutto fuori l'enorme impegno che la Procura di Salerno, la dottoressa Volpe, i carabinieri del reparto operativo di Salerno hanno messo in questa indagine. Questo è un segnale importante, forte non solo per noi di Pollica, per la famiglia di Angelo, ma è un segnale forte per tutti i cittadini. Siamo di fronte ad una delle ipotesi in cui la magistratura, come spesso accade, fa benissimo il suo lavoro e con costanza, senza grossi proclami, prosegue il suo lavoro in silenzio e quando è il momento giusto procede nella giusta direzione. È inutile nascondere che noi speriamo moltissimo che Damiani possa fornire delle informazioni utili alla risoluzione dell'omicidio di Angelo, però allo stesso tempo, nella peggiore delle ipotesi, riteniamo che possa servire a chiarire quello che accadeva a Pollica nell'estate del 2010. Sicuramente lui è stato uno degli elementi di novità negativa per Pollica in quell'anno, cosa che non era accaduta in precedenza e che non si è ripetuta poi negli anni successivi. Quindi speriamo veramente col cuore che possa contribuire a farci capire meglio quello che è accaduto a Pollica. La droga è la prima pista battuta da Roe per risolvere il giallo, del resto c'è stato anche un confronto acceso proprio anche tra il sindaco Vassallo e Damiani e sin dalle prime ore gli investigatori si sono concentrati soprattutto su questa pista, quella legata all'attività di contrasto allo spaccio della droga da parte del sindaco. L'indagine è molto complessa perché i magistrati hanno dovuto verificare una serie di ipotesi, però la pista della droga è stata sempre la più accreditata e di conseguenza ha condotto a approfondimenti importanti come quello che oggi ritroviamo sulle pagine dei giornali. Ovviamente aspettiamo fiduciosi che presto rientri in Italia. Damiani però è significativo la perseveranza, io ripeto questa cosa perché Damiani si trovava in Brasile e dal Brasile non poteva essere stradato per essere condotto in Italia. L'attenzione alla quale è stata seguita la vicenda ha portato al suo arresto perché si è trasferito dal Brasile alla Colombia, paese che invece ne consente l'estradizione. Quindi ancora molti complimenti. E ancora la cronaca nera con il sequestro da parte di 16 ettari di bosco nella comune di Ceraso da parte degli uomini del Corpo Forestale dello Stato della CTA di Vallo della Lucania. Due le persone denunciate, mille euro di sanzioni amministrative elevate. Gli uomini del Corpo Forestale dello Stato del coordinamento di Vallo della Lucania diretti dal vicequestore Fernando Sileo hanno posto sotto sequestro un'area boscata di circa 16 ettari nella comune di Ceraso, in una località difesa nella quale si stava realizzando un taglio boschivo illegale. Il comando Stazione Forestale di Vallo della Lucania nell'ambito di servizi di vigilanza ambientale e controllo del territorio nel cuore del Parco Nazionale del Cilento ha accertato che su terreno di proprietà private era in corso il taglio di utilizzazione di un bosco governato a ceduo di specie castagno, leccio e macchia mediterranea. Le indagini condotte, le acquisizioni documentali esperite hanno consentito di accertare che le attività di taglio e di utilizzazione boschiva venivano eseguite in carenza delle necessarie autorizzazioni, poiché priva della parere della sopraindendenza per i beni architettonici e paesadistici di Salerno. Infine, le verifiche in campo hanno consentito di appurare che la ditta aveva realizzato abusivamente con l'ausilio di un mezzo meccanico una pista carrabile lunga 500 metri e larga 2 metri, sradicando diverse ceppaie di specie castagno, oltre che aver effettuato il taglio di alcune particelle fuori dalla stagione silvana. I forestali hanno quindi provveduto a porre sotto sequestro preventivo tutta l'area di cantiere e la pista di Esbosco, deferendo alla competente autorità giudiziaria di Vallo della Lucania due persone, la prima a 74enne in qualità di proprietario, la seconda un 54enne titolare della ditta boschiva che seguiva il taglio, i quali dovranno ora rispondere a vario titolo per i reati di taglio boschivo non autorizzato, danneggiamento e deturpamento di bellezze naturali di una zona di alto pregio ambientale. Prosegue quindi l'azione di prevenzione e controllo di gestione dei boschi da parte del Corpo Forestale dello Stato affinché venga rispettata la vocazione e la destinazione naturale delle aree e siano perseguiti gli interventi in contrasto con gli strumenti di pianificazione e gestione del territorio importante per preservare e difendere il patrimonio boschivo del verde cilento. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di politica a Castellabate con il primo cittadino Costabile Spinelli che nel giro di poche ore ha prima azzerato le deleghe quindi ridistribuite con un cambio di assessore. Entra Franco Ambrosano al posto di Antonio Florio. Tutto in poche ore l'azzeramento della giunta con la revoca di tutte le deleghe poi la riassegnazione con il cambio di un assessore il sindaco Spinelli ha deciso di azzerare e ridistribuire le deleghe e la propria squadra. La novità è l'ingresso da assessore di Franco Ambrosano fino a ieri consigliere al posto di Antonio Florio ex assessore al turismo spettacolo sport e porto. Il neo entrato manterrà come assessore la delega al ciclo integrato acque valorizzazione centri storici e cimitero. La sostituzione era già nell'aria da tempo nel luglio scorso i consiglieri Ambrosano Durazzo e Montone avevano costituito un gruppo autonomo per il futuro sempre all'interno della maggioranza per avere un peso più importante nell'ambito dell'amministrazione pare che la decisione sia maturata dopo la poca partecipazione dell'assessore Florio negli ultimi sei mesi alla politica locale. Continuerò nel mio impegno quotidiano come ho sempre fatto le prime parole di Ambrosano nessun commento per ora da Florio che forse a meno che non rifiuti avrà da consiglieri la delega alle attività produttive commercio e sporta. Quelle precedenti entranno con la promozione del territorio al consigliere Carlo Montone Non c'è stata spaccatura in maggioranza precisa il sindaco Spinelli la decisione è frutto di una scelta condivisa da tutti per dare nuovi stimoli all'attività amministrativa invariate le deleghe all'area marina protetta ambiente demanio cultura e pari opportunità per il vice sindaco Luisa Maiori l'assessore costabile Nicoletti manterrà lavori pubblici e governo del territorio mentre a Domenico di Luccia andrà l'assessorato alla protezione civile igiene urbana e verde pubblico mobilità urbana patrimonio ed associazionismo al consigliere Salvatore Marinelli edilizia scolastica e pubblica istruzione a Francesco Durazzo e infine PUC e politiche sociali ad Umberto Giannella sul fronte viabilità anche la strada provinciale 61 che collega Castellabate Capoluogo con la 267 Via del Mare rientra tra le opere da finanziare con l'accordo di programma tra regione e provincia Rinviata invece l'assemblea della comunità della Parco che doveva eleggere quattro componenti del consiglio direttivo intanto continua il toto presidente tra i nomi tra i favoriti l'ex assessore provinciale Marcello Feola l'attuale presidente della fondazione Vico Vincenzo Pepe nonché anche l'onorevole Antonio Valiante Giorni decisivi per il futuro dell'enteparco del Cilento Vallo di Diano e Alburni in attesa di conoscere il nome del nuovo presidente anche i sindaci degli 80 comuni dell'area protetta si apprestano a nominare i quattro rappresentanti del nuovo consiglio direttivo potrebbero venire fuori dalla comunità del parco convocata per domani pomeriggio presso il centro della biodiversità di Vallo il presidente Antonio Radano ha convocato i sindaci e i rappresentanti degli altri enti istituzionali che rientrano nella comunità del parco un'impresa non facile considerato che negli ultimi quattro anni gli amministratori dell'area protetta hanno dimostrato poca compattezza basta ricordare che a tre anni e mezzo dalla morte del presidente Angelo Vassallo la comunità del parco nonostante diversi tentativi non è ancora riuscita a ritrovarsi su un unico nome per eleggere il nuovo presidente è facile intuire gli scenari che si presenteranno per disegnare nuovi consiglieri in seno al consiglio direttivo dai quattro designati dovrebbe poi essere scelto anche il vice presidente del parco i sindaci del Cirento e Diano saranno dunque chiamati a scelite importanti dovranno dimostrare spirito di collaborazione quella concertazione al momento assente nella politica gestionale della comunità del parco attesa anche la nomina del successore di Amilcare Troiano il cui mandato scade il 27 febbraio il ministro dell'ambiente Andrea Orlando se riconfermato insieme al governatore della campagna Caldoro dovrà sciogliere ogni riserva nominando un nuovo presidente o prorogando ulteriormente l'incarico a Troiano le indiscrezioni sul nuovo presidente intanto sono tante tra i nomi più accreditati quello del presidente della fondazione Vico Vincenzo Pepe e dell'ex assessore ai lavori pubblici della provincia di Salerno Marcello Feola per quest'ultimo sarebbe la seconda candidatura alla presidenza del parco cinque anni fa il suo nome era stato proposto insieme a quello di Amilcare Troiano poi nominato presidente questa volta pare che Feola sia favorito rispetto a Vincenzo Pepe entrambi naturalmente smentiscono ogni indiscrezione ma c'è chi assicura che i due nomi sono già sulla scrivania di Caldoro a sorpresa potrebbe rispuntare l'onorevole Antonio Valiante l'attuale consigliere regionale che ha riferito di non essere interessato all'incarico potrebbe essere l'unica figura in grado di mettere d'accordo il PD del ministro Orlando e il centrodestra di Caldoro l'assemblea che doveva svolgersi domani si svolgerà quindi con ogni probabilità il 7 marzo quindi venerdì prossimo e continuiamo a parlare della parco perché nei giorni scorsi a Teggiano nell'antico complesso di Palazzo Santa Maria è stata inaugurata la sede distaccata proprio dell'ente parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alboni sentiamo allora le testimonianze della sindaco Pica di Sant'Arsenio di Rocco Giuliani di Polla e di Beniamino Curce di Buonabitacolo per noi è un fatto positivo perché proprio come diceva lei veniamo fuori da una serie di tagli una serie di suppressione una serie di mortificazioni di questo territorio che non è considerato giustamente ai livelli più alti quindi la sede del parco questa sera qui a Teggiano significa la presenza dello Stato per certi aspetti la presenza di una istituzione che comunque mette insieme tutti i comuni dell'intero territorio del parco nazionale e quindi creiamo una rete e un punto di riferimento per il nostro territorio ecco allora un momento anche di incontro un ulteriore momento di incontro istituzionale con il parco un ente che comunque sin dalla sua nascita ha avuto l'obiettivo di proporsi per lo sviluppo di una vasta assolutamente sì questo è positivo perché noi vogliamo l'incontro vogliamo il confronto soprattutto con il parco perché fino ad oggi quella volano turistico che tutti si aspettavano non è arrivato forse è arrivato in ritardo vedono i nostri concittadini il parco semplicemente come una limitazione dobbiamo fare in modo noi amministratori insieme agli organi del parco di convincere e di far capire che oltre alla limitazione c'è sicuramente un qualche cosa di positivo che può tornare sui nostri territori in termini di turismo e quindi in effetti diciamo l'applauso al vicepresidente ma va all'intera amministrazione del parco quello di aver capito che in questo territorio era necessaria la presenza di un sito per poter spiegare meglio essere più vicino al cittadino e far capire anche quale diciamo la finità del parco perché spesso non vengono cattive informazioni noi che siamo amministratori conosciamo benissimo quali sono i benefici di questo ente anche se qualcuno nel passato era un ente inutile però diciamo è un ente che è stato istruito per salvaguardare una zona una zona che noi siamo a questo momento stiamo cercando di investire molto sul turismo il valo di Diano è una parte importante come territorio che rientra nel perimetro del parco non mi sembrava giusto che tanti comuni per presentare una semplice pratica dovessero fare qualche centenari di chilometri per arrivare alla sede del parco questa sede non va vista come una sorta di conflitto ma diciamo sì come un valore aggiunto io sono orgoglioso e sono contento per questa scelta che è stata fatta e approfitto di questa occasione per ringraziare l'avvocato Matera e anche il comune di Teggiano quindi che ha reso disponibile questa occasione per noi è una cosa importante è una cosa importante per i professionisti è una cosa importante per i cittadini è una cosa importante per il territorio bisogna ragionare con questa visione di insieme cioè sostanzialmente bisogna mettere da parte anche le appartenenze politiche dobbiamo veramente dare priorità al territorio questo territorio più volte viene preso di mira e vogliamo salutare questa sede che è stata aperta del parco come una sorta di controtendenza rispetto a quello che abbiamo subito in questi anni io mi auguro quindi che veramente si possa aprire una fase nuova anche nel Valle e possiamo tornare a essere protagonisti non in contrapposizione con l'Uccidente ma dobbiamo viaggiare insieme perché i problemi sono comuni e praticamente le energie vanno unite in questi momenti di difficoltà l'ultima riparazione alla condotta Faraone terminata ieri sera purtroppo alle 23 è stata ancora una volta vanificata per effetto di una nuova rottura tale evento è il quinto episodio che ha interessato nell'ultima settimana l'importante sottoservizio gestito da CONSAC la società sta provvedendo alla riparazione prevedendosi l'ultimazione dell'intervento per il pomeriggio di oggi a causa del reiterarsi della dispersione idrica attraverso le falle che hanno interessato l'aduttrice con frequenza inusitata l'interruzione già subita ieri da parte dell'utenza interessata è destinata a protrarsi fino alla serata di ieri nei comuni interessati sono celle di Bulgaria Rocca Gloriosa Torre Orsai a San Severino Torre Gabella Piano Faracchio Caprioli San Nicola di Centola Centola Pisciotta Stampella di Ascea e Salicuneta di Ascea a cui potrebbero aggiungersi anche altre località da San Giovanni a Piro a Camerota ad Acceroli a Mezzatorre e così via e adesso cambiamo argomento domani pomeriggio alle 16 presso il Tribunale di Vallo della Lucania ci sarà l'inaugurazione del nuovo anno giudiziario un appuntamento che si ripete come ogni anno allora sentiamo il Presidente del Tribunale Vallese Elisabetta Garzo che tra l'altro ha rinnovato ancora una volta gli auguri ai due nuovi magistrati che si sono insediati proprio qualche giorno fa è una cerimonia penso importante perché come sempre è un momento di unione tra il mondo giudiziario e quindi quello degli avvocati dei magistrati e il mondo della collettività perché come sempre noi svolgeremo questa nostra funzione di augurio per il nuovo anno giudiziario augurio che è fatto sia per quel che riguarda chiaramente gli addetti ai lavori mi ha un augurio aperto a tutta la collettività la cittadinanza infatti tutti sanno che possono partecipare ecco perché abbiamo come sempre unito un momento culturale con un momento musicale e con un momento gastronomico perché alla fine come sempre ci sarà una piccola degustazione di prodotti tipici proprio per far sì che si tratti di una cerimonia che possa essere una cerimonia che abbia un senso per tutta la città quindi da questo punto di vista quest'anno tra l'altro è una cerimonia particolarmente significativa per quel che riguarda i rappresentanti della giustizia perché ci sarà il presidente aggiunto della Corte di Cassazione il presidente Rovelli ci sarà il presidente Cirillo del Consiglio di Stato e quindi proprio il presidente Rovelli mi ha espresso il suo intendimento circa l'argomento che tratterà che sarà appunto un argomento proprio che avrà ad oggetto la giustizia le difficoltà che si affrontano quotidianamente in piccoli tribunali ma così come in Corte di Cassazione allora venerdì venerdì alle ore 16 e daremo anche per quest'anno questa cerimonia di connubio cultura musica mondo del diritto e collettività in chiusura da presidente del tribunale da donna e sicuramente da magistrato qual è il suo augurio a queste giovane colleghe? il mio augurio alle giovane colleghe è quello che ho fatto poca ansia e cioè quello di svolgere questo lavoro sempre con serenità ma soprattutto con entusiasmo così come devo dire faccio io quotidianamente da 35 anni 79 2014 35 anni quindi questo è il mio augurio e l'augurio insomma di una vita di famiglia una vita di interessi ma soprattutto una vita sempre con la possibilità di avere un lavoro che crei soddisfazione e che non crei angoscia ma il piacere di potersi interessare ed affrontare le varie questioni che ogni giorno dobbiamo affrontare ed ora la sanità la clinica Malzoni sbloccata l'avvertenza ha firmato quindi il mandato di pagamento per 3,4 milioni di euro sbloccata l'avvertenza con la casa di cura privata di Agropoli Malzoni il direttore generale dopo la presentazione del DURC da parte della struttura ha firmato un mandato di pagamento per un importo di 3,4 milioni di euro e l'asla Salerno ha provveduto con questo pagamento a saldare ogni fattura a favore della casa di cura finalmente anche questa avvertenza è stata risolta grazie alla perfetta intesa raggiunta tra le parti ha detto il direttore generale Antonio Squillante qualora non vi sia la regolarità dei DURC nessuno può chiedere all'asla di voltare lo sguardo da un'altra parte credo che il corretto pagamento dei contributi previdenziali sia un elemento a tutela dei lavoratori stessi e del pubblico interesse le strutture che non si sono ancora messe in regola sono ormai un numero esiguo circa il 2% se non regolarizzeranno la loro posizione l'asla è pronta ai sensi della normativa vigente a sostituirsi nei pagamenti dei contributi direttamente all'ente previdenziale per diverse settimane la situazione è stata tesa 150 dipendenti da dicembre senza stipendio avevano annunciato atti di forza più importanti di una protesta pacifica ma l'umore e tensione dei lavoratori sono molto alte ciò significa che si potrà pensare anche a un atto di forza più importante Angelo De Girolamo segretario provinciale Cisla Salerno con parto sanità aveva fatto sapere che lo stato di agitazione dei lavoratori ad inizio febbraio era dovuto anche al fatto che l'asla appunto non aveva erogato i mandati alla casa di cura agropolese sono profeti di sventura così si è pronunciato il vescovo della diocesi di Tegiano Policastro Antonio De Luca nei giorni scorsi scombrando quindi il campo dagli equivoci in merito alla soppressione della diocesi di Tegiano Policastro dopo le numerose richieste di chiarimento da parte dei nostri telespettatori in merito alla paventata soppressione della diocesi di Tegiano Policastro abbiamo cercato di fare chiarezza i cittadini che ci hanno contattato hanno tutti lamentato la stanchezza di vivere in un territorio sempre più di conquiste e sempre più depredato basti pensare in tanti hanno sottolineato che viviamo in un territorio dove non c'è più un presidio di giustizia dove non c'è più la ferrovia e dove stanno riducendo all'osso le strutture sanitarie ora anche la diocesi si sono chiesti in tanti allora quale migliore risposta in merito poteva arrivare se non quella della guida pastorale della diocesi di Tegiano Policastro Monsignor Antonio De Luca intercettato dalle nostre telecamere al margine di un convegno questi sono i profeti di sventura che dobbiamo assolutamente allontanare perché la nostra diocesi grazie all'impegno generoso e costante di tutto il presbiterio diciamo che gode di ottima salute spirituale i sacerdoti investono energie di mente e di cuore per edificare le comunità cristiane ma anche per salvaguardare il grande patrimonio artistico-culturale di moltissime nostre chiese assolutamente è da smentire questa ipotesi e casomai si può prospettare l'ipotesi di un'ulteriore crescita della diocesi questo sì ma la scomparsa assolutamente è assurda l'associazione Olus Carmine e Speranza ha avuto il patrocinio da parte dell'ASL Salerno 1 di Salerno per la promozione della cultura del primo soccorso BLSD in tutte le scuole del territorio del Cilento e del Vallo di Diano istruttori qualificati illustreranno praticamente a tutto il personale insegnante e degli studenti delle scuole superiori le manovre del primo soccorso e della disostruzione delle vie aeree primo appuntamento è ad Ascea per il 25 febbraio alle ore 15 presso l'istituto scolastico omnicomprensivo è stato nella Cilento tutto pronto per il carnevale 2014 ieri pomeriggio presso il cinema Bolivar di Marina di Camerota si è tenuta la riunione organizzativa estilato nella programma dell'edizione 2014 parteciperanno alla prima edizione del carnevale del Cilento i paesi di Marina di Camerota Palinuro Camerota Centola Caprioli San Severino di Centola si parte il primo marzo Palinuro in piazza Virgilio con l'inaugurazione del carnevale del Cilento con la sfilata allegorica quindi a concludere martedì 4 marzo Marina di Camerota via Bolivar ore 13 partenza della sfilata allegorica per le vie principali del centro occidentano a seguire in località Porto spettacoli coreografici dei carri e premiazioni adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo nuovamente qui per la seconda parte della telegiornale diciamo la verità non si può andare avanti così abbiamo realizzato soluzioni personalizzate per giovani famiglie e imprese un sostegno reale alle persone del nostro territorio primo capitale da proteggere per il nostro futuro da sempre rispettiamo la nostra identità di banca del territorio ora anche ad Altavilla Calabrito Castelcivita e Felitto scopri la BCC dei comuni cilentani su internet vieni presso le nostre filiali e stringiamoci la mano il credito ci unisce infante calzature i migliori articoli di calzature e pelletteria per lui Galizio Torresi Umberto Luciani Trotters Roberto Serpentini per lei Caffè Noir Manas Agora Laura Biagiotti Yamamai per lui e lei Stonefly Lumberjack Per i più piccoli Naturino Miss Grant Nel reparto sport dedicato a tutti Nike Adidas Hollywood Milano Carrera Tacchini K Lotto Di Adora Puma Infante calzature un grande negozio per scelta qualità e convenienza a Vallo della Lucania in via Angelo Rubino ad Agropoli in via Pio Decimo 70 Infante calzature indossa la qualità Ancora nuove corse per Roma Fiumicino con le autoline Curcio parte una terza corsa giornaliera per Roma da lunedì al sabato puoi arrivare a Roma alle 7 di mattina e a Fiumicino alle 7.30 e potrai partire da Fiumicino alle 9.30 di mattina da Roma Tiburtina alle 10.30 e da Roma Anagnina alle 11.15 E ancora novità il collegamento per la Toscana diventa giornaliero sono garantite le corse anche il sabato tutte le informazioni sul sito curcioviaggi.it e adesso lo sport con l'Agropoli continua la preparazione in vista del prossimo appuntamento ieri la squadra ha effettuato la consueta doppia seduta con un lavoro prevalentemente basato su partitine e schemi mentre la squadra oggi pomeriggio sosterrà la consueta amichevole in fra settimanale alle ore 14.30 con il Bellizzi al Capo Torre invece la Gelbison che dopo la sconfitta casalinga contro il Grottaglie è chiamata al riscatto contro la San Felice Gladiator noi abbiamo intervistato il direttore generale Agostino di Spiriti in collegamento telefonico direttore partiamo da un'analisi della partita di domenica questa sconfitta casalinga che fa tornare la Gelbison con i piedi per terra sicuramente una sconfitta che non ci voleva però noi già stavamo con i piedi per terra per la verità perché nessuno ha fatto mai progetti diversi se non quelli della salvezza anche se vuoi qualche collega tuo parlano sempre di di playoff però però noi abbiamo sempre detto che l'obiettivo per raggiungere il prima possibile è l'obiettivo della salvezza per salvare la categoria quindi è una Gelbison che non guarda i playoff no non è che non guarda i playoff noi guardiamo alla salvezza poi se viene qualcosa di più importante ben venga noi ce la metteremo tutto fino alla fine però è chiaro che l'anno scorso ripetere il camminato dell'anno scorso è un'utopia però come dicevo prima la serie D per Vallo già è un grosso sacrificio un grosso fiore all'occhiello una cosa importante per la città quindi manteniamo quello che teniamo poi se viene qualcosa di diverso che ben venga nel prossimo turno c'è la San Felice Gladiator possiamo dire una diretta concorrente per la salvezza penultimo posto con 18 punti una vittoria consentirebbe quindi di allungare ulteriormente su quella che poi è la zona salvezza sicuramente sarà un'altra partita importante loro vengono da una sconfitta in casa quindi sarà sicuramente un ambiente caldo una squadra che vorrà sicuramente fare punti per mettersi per non stare nei bassi punti però a noi servono dei punti quindi ce la dobbiamo giocare con la concentrazione diversa con uno studio diverso da quello di domenica e dobbiamo cercare di portare a casa un risultato positivo Direttore un'ultima battuta manca ancora un po' al termine della stagione però i risultati parlano anche quest'anno a favore di Mr. R avete già provveduto a blindarlo per l'anno prossimo oppure è presto per parlare di mercato? Ancora è presto però è quello che poi noi difettiamo noi se vogliamo costruire qualcosa di importante dobbiamo cominciare a programmare se no poi ogni anno dobbiamo ripartire da zero quindi se programiamo quest'anno possiamo fare un discorso pure con Erra altrimenti Erra prenderà strade diverse anche se poi un tecnico merita marcoscenici sicuramente più importante e più famoso per la gente Un ex allenatore della Gelbison e anche della Battipaiese torna ad allenare parliamo di Emilio Longo che nei giorni scorsi è diventato ufficialmente il nuovo allenatore della San Severo Longo subentra a Danilo Ruffini a lui toccherà quindi l'arduo compito di rigenerare una squadra terzultima in classifica e reduce da tre pesanti sconfitte consecutive nelle quali non è stato messo a segno neppure un golo dopo l'esonero nella scorsa stagione di Battipaia per Longo è l'occasione del grande rilancio il quarantenne tecnico salernitano al suo primo subentro in carriera ha già guidato i primi allenamenti della squadra giallogranata e farà il suo esordio ufficiale in occasione della partita di domenica prossima contro il Taranto adesso ancora una pausa pubblicitaria e poi torniamo qui per la terza e ultima parte della telegiornale un'esercizio 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 www.barabagames.com 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 Salerno 0974 72 837 Sarà il comune di Agropoli a curare e gestire direttamente il monumento di San Francesco presente sulla collina San Marche quanto stabilisce l'accordo che avrà una durata di 10 anni stipulato tra l'amministrazione guidata da Franco Alfieri e la parrocchia Santa Barbara di Copersito Cilento proprietaria del suolo sul quale sorge l'opera iniziata nel 1982 da padre Sinforiano Basile e rimasta incompiuta dopo la richiesta formalizzata nei mesi scorsi dal sindaco Franco Alfieri l'ente comunale agropolesi ha ottenuto la concessione a titolo di comodato d'uso gratuito del monumento e dell'area adiacente Ed era questa l'ultima notizia della telegiornale grazie come sempre della cortese attenzione e buon proseguimento di giornata